Ciao ragazzi, adesso vi faccio vedere come si montano i guanciali del nostro nuovo casco da cross X502 Di chi è il casco? L'hai fatto su misura? Questo non è un casco fatto su misura ma è un casco che usiamo per i piloti per fare la prova taglia Questo è un casco nuovo uscito Aurora, un nuovo casco da cross X502 della X-Lite Powered by Nolan In fibra di carbonio, abbiamo il lungo che è l'altro ragazzo insieme a Oberdan del Racing Service Coloro che sopportano i piloti tutto l'anno E ogni gara praticamente il pilota pensa di avere una taglia di testa diversa Perché chiede di modificarlo, di sistemarlo, è vero? Esatto Uno è lui, vedete